In provincia di Teramo aumenta la differenziata ma aumentano anche i rifiuti e quanto emerge dal rapporto rifiuti elaborato sulla base dei dati del 2014 che hanno consentito di delineare un quadro preciso del sistema integrato dei rifiuti tra luci e ombre. Un elemento positivo riguarda la crescita della raccolta differenziata in tutta la provincia dove in alcuni comuni si raggiunge quota 80% ma mediamente ci si attesta attorno al 57,3% con un più 5,37% rispetto al 2013. Dall'altro lato cresce il volume dei rifiuti prodotti che segna un aumento di 10.000 tonnellate passando da 148 a 158.000 tonnellate. Altra criticità è rappresentata dall'impiantistica che in provincia di Teramo non garantisce l'autosufficienza. Questo significa un aumento dei costi di gestione legati al maggior costo del trasporto del rifiuto che viaggia verso discariche fuori provincia e di riflesso un aumento dei costi a carico del cittadino. La risoluzione di questo problema, secondo il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, passa attraverso il superamento degli attuali consorsi di gestione dei rifiuti. A questo proposito il commissario Giovanni Damiani ha annunciato che 60 comuni che non hanno ancora aderito all'Agir e che ne impediscono il funzionamento saranno commissariati.